Noi non siamo chiusi a nessuna ipotesi, se ovviamente dobbiamo parlare di un residente nella zona di competenza della banca, cioè provincia di Macerata e zona immediatamente limitrofe, se questo ragazzo verrà a parlare con i direttori delle nostre filiali, affronteremo l'argomento e gli daremo una risposta soprattutto in tempi celeri, perché una delle nostre caratteristiche è quella di dare risposte celeri, così chiunque possa regolarsi e assumere le decisioni che ritiene. Allora, tra i 4-9 e il 30-9-18-169 c'è una persona che si lamenta perché dice che siamo stati espremuti per l'ennesima volta e non hanno fatto pagare chi non ha ancora pagato e per l'Italia contro ancora chi ha preso le decisioni secondo questa persona che di fatto non hanno pagato le tasse, chi non le ha ancora pagate e per cui chi ha i redditi molto molto alti, di fatto invece credo che questo giro chi ha vetture con cilindrata molto alta e quant'altro credo che siano stati colpiti in qualche modo, mi sembra che qualcosa è stato fatto. Ma infatti è vero quello che dice lei, io ricordo quando già accennavo prima, cioè questi provvedimenti che erano assolutamente urgenti da un punto di vista temporale e assolutamente importanti da un punto di vista di contenuto, sono stati assunti in un arco di tempo brevissimo, credo che oggi siano 18-20 giorni che il governo è in carica, quindi è chiaro che è stata stata fatta un'operazione abbastanza lineare ma tenendo però conto fin da questo momento di alcune possibilità che anche lei stava citando che cominciano anche però a riguardare non solo la solita classe tartassata, la classe meno abbiente sempre tartassata, ma anche qualche cosa che si sta mettendo in modo e comunque come è stato già detto il Presidente Monti ha fatto molto esplicitamente presente che nei prossimi tempi ovviamente si cercherà di meglio strutturare l'intera manovra sotto il profilo dell'equità. Per cui magari è vero in questo momento ancora appare più tartassata la classe modesta della nostra popolazione, però è certo che si sta, sembra, mettendo in modo un meccanismo invece per riequilibrare la situazione complessiva. Poi se me lo consente il conduttore, io detto questo diciamo sul piano generale vorrei aggiungere una cosa sul piano generale e dire qualche cosina anche sul fronte della nostra banca specificamente. La cosa che vorrei aggiungere sul piano generale è che come è noto a tutti noi siamo di fronte a una tempesta vera e propria che ha reso talmente complicata e talmente difficile e talmente pericolosa la situazione che ha praticamente avuto l'effetto di fermare pressoché tutto. Diceva prima il direttore generale che la nostra è una delle ultime poche banche che ancora sta a fianco del territorio e sostiene ancora il territorio perché le altre sono quasi tutte ferme. Ma perché sta succedendo questo? Perché c'è pochissima liquidità, non c'è fiducia. Quella poca liquidità che esiste come probabilmente anche i telespettatori sanno, è una liquidità che viene collocata a tassi veramente pazzeschi che comportano ovviamente se qualcuno la volesse acquisire quella liquidità si parla perfino fino al 5%, in qualche caso si sono viste obbligazioni, emissioni di obbligazioni al 6% addirittura. Questo fa capire qual è la situazione, nel senso che poi chi acquisisce quella liquidità a quei prezzi evidentemente poi deve impiegare quella stessa liquidità a tassi molto più alti che si possono ipotizzare dell'ordine dell'8-9 se non 10%. Tutto questo penso, spero e tutti speriamo che sia in fase invece di avvio di controllo di questa situazione. È noto a tutti che a seguito dei provvedimenti del governo Monti il cosiddetto spread, cioè la forbice, la differenza fra i tassi delle nostre obbligazioni decennali e quelle dei Bund tedeschi di pari durata, questa forbice aveva raggiunto una dimensione del 5,70% circa, non più tardi di un mese e mezzo fa e all'emanazione dei provvedimenti che oggi il Capo dello Stato dovrebbe firmare, quindi dovrebbero andare in vigore, è sceso immediatamente sotto il 4%, ieri sera eravamo al 3,75%, questa mattina non abbiamo ancora sentito queste notizie, ma io credo che evidentemente questi provvedimenti già assunti siano considerati in maniera estremamente positiva e per cui dovrebbero servire ad abbassare questo differenziale di tasso tra l'Italia e la Germania. Poi c'è un altro fatto che va nella stessa direzione e che è quello che la Banca Centrale Europea, come molti ricorderanno, ha abbassato recentemente dello 0,25% il tasso di riferimento che prima era dell'1,50% e poi adesso è sceso all'1,25% e ci si attende, le attese sono di questo tipo, il calo di un altro 0,50% circa nei prossimi mesi. Tutto questo significa che il costo del danaro dovrebbe continuare a, come dire, prima equilibrarsi e poi cominciare a scendere e questo evidentemente va nella direzione anche, come dire, indirettamente di quelle lamentele che ci sono per cui i meno abbienti sono sempre più tattassati e per cui chi andrà poi a acquistare la casa o a fare il mutuo per altre operazioni e via di seguito non si sentirà a chiedere il 7, 8, 9% di tasso ma potremo probabilmente tornare, ce lo auguriamo, a tassi molto più accessibili. Se mi consente ancora, questo è il ragionamento di carattere generale, di soffermarmi un attimo sulla invece situazione della nostra banca. Prima il direttore diceva, io lo confermo che la nostra banca è una banca legata al territorio e io confermo ancora una volta che mi fa molto piacere essere qui perché noi siamo amanti dei valori del territorio, del localismo e questa è una emittente che sa trasmettere molto bene questi valori, quindi ci fa sempre piacere stare qui a ragionare con voi e con i telespettatori di queste cose, ma volevo dire che la nostra banca è una delle poche che ancora sta dando il proprio appieno apporto al territorio, a condizioni ancora abbastanza normali rispetto a quelle che invece quel mercato un po' drogato di cui parlavo prima sta invece dando e per noi questo è importantissimo, anche perché mentre generalmente c'è una situazione di quel genere, per la nostra banca l'anno 2011 che oramai sta chiudendo può essere considerato un anno di svolta, nel senso che noi stiamo passando da una molto critica fase iniziale che è quella dell'avvio dell'attività che è durato 5 anni e qualche cosa, ha una fase di consolidamento e di equilibrato sviluppo della nostra banca, tant'è che abbiamo attirato l'attenzione di investitori istituzionali, noi a gennaio prossimo faremo un'assemblea straordinaria degli azionisti per proporre l'aumento del capitale sociale riservato, esclusivamente riservato ad una compagnia di assicurazione che ovviamente darà lustro alla nostra banca e consentirà di allargare anche la propria capacità operativa offrendo prodotti anche di tipo assicurativo emessi da questa compagnia di assicurazione, quindi c'è questo fatto, c'è il fatto che noi andremo a chiudere l'esercizio con un utile significativo, dopo una fase iniziale molto impegnativa in cui necessariamente avevamo accumulato delle perdite e stiamo assumendo personale, ci stiamo allargando, quindi anche nell'anno 2011 la banca ha assunto alcuni giovani, 6 o 7 se non ricordo male, altri sono in vista di assunzione con un ulteriore sviluppo della banca, stiamo allargando la nostra presenza sul territorio in aggiunta ai tre sportelli che attualmente la banca ha, Macerata, Civitanova Marca e Tolentino, andremo ad aprire degli sportelli finanziari, degli uffici finanziari a Camerino, a Macerata stessa, forse a San Severino, adesso vedremo, stiamo ragionando su questo. Ecco, allora volevo dire che nell'ambito di una tempesta così grande, così forte, la nostra banca comunque si sta difendendo e noi che siamo amanti dei valori del territorio siamo veramente a favore dell'intero territorio. Per dare un segnale di questa nostra vicinanza e un ringraziamento agli azionisti e alla cittadinanza e adesso, e qui colgo l'occasione anche per cominciare a fare gli auguri di Natale e di buon anno a tutti i telespettatori, a voi e a tutti i telespettatori, noi offreremo un concerto gratuito di coro gospel il giorno 23 dicembre al Teatro Lauro Rossi qui a Macerata con la disponibilità dell'auditorium San Paolo e con l'esposizione di schermi giganti sia all'auditorium sia in piazza, all'intera cittadinanza proprio per segnalare questa nostra attenzione al territorio, per ringraziare il territorio per l'accoglienza che ci è stata fatta in questi anni di avvio dell'attività e per, insieme al territorio e agli azionisti, e quindi, come dire, farci l'auspicio di un'ulteriore possibilità di ampia collaborazione per il futuro, perché la nostra banca ha questa missione, vuole realizzarla interamente il più velocemente possibile e per fare questo ovviamente serve l'assistenza, il supporto degli azionisti e la comprensione del progetto e degli obiettivi da parte della cittadinanza del nostro territorio. Ma vede, io l'altra volta... Sì, è vero, io l'altra volta, forse lei e i telespettatori lo ricorderanno, facevo riferimento al valore del localismo anche considerando il fatto che i nostri 33-34 dipendenti, mi pare, a questo momento, siamo partiti da 14 dipendenti, siamo arrivati a quasi 35, i nostri 15 circa o 20 collaboratori esterni, promotori finanziari, promotori bancari, eccetera, quindi in tutto mettiamo insieme una cinquantina di persone sotto questo profilo, essendo partiti invece da 14, ecco dicevo che il localismo lo professiamo certamente ma lo attuiamo anche con la collaborazione di tutti questi personaggi che sono persone, compreso il direttore generale che pur non essendo maceratese però è stato qua come direttore della Banca d'Italia, della filiale della Banca d'Italia di Macerata per un lungo periodo, quindi conosce anche lui profondamente il nostro territorio. Tutti gli altri collaboratori sono al 99% persone nate, residenti sul territorio, che conoscono alla perfezione le necessità del territorio stesso ed è questo il modo con cui si esercita poi quel localismo, al di là di quelle che sono le condizioni, gli aspetti tecnici dell'operatività, ma è questo il modo fondamentale con cui si esercita quel localismo che è la nostra bandiera. Scusi Presidente, a proposito del localismo, io porrei anche l'attenzione sui prodotti finanziari che sono stati emessi negli ultimi tempi e che sono in corso di emissione e penso che il direttore generale possa individuarli almeno limitatamente ai più interessanti e anche ai più urgenti, ad esempio Obiettivo 5 promozionato a Natale dal punto di vista temporale. Io volevo semplicemente sottolineare che la Banca Princia Macerata si contraddistingue per una sua peculiarità, quella di essere vicino al risparmiatore, difendere i risparmi e difendere la fedeltà alla banca. Questi due grandi riferimenti concettuali ci portano e ci guidano nell'ideazione dei prodotti. Quindi Obiettivo 5%, che è un prodotto che ormai è diventato il nostro cavallo di battaglia per tutto quest'anno, abbiamo fatto in modo che venisse premiata la fedeltà. Abbiamo detto che, contrariamente alle altre banche che danno tassi particolari soltanto per il denaro nuovo, se voi portate un minimo di denaro entro il 31 dicembre, perché scadrà il prodotto al 31 dicembre, noi vi assicuriamo l'aumento, il 3% su tutte le somme depositate. Questa è una novità assoluta nel sistema bancario, ma perché l'abbiamo fatto? È semplice, lo dicevamo l'altra volta, perché oggi, come avete tutti letto, l'inflazione è quantificata intorno al 3,5, 3,4, 3,5, 3,3 a seconda degli istituti che lo studiano e quindi noi siamo fermamente convinti e teniamo la barra dritta nel difendere il risparmio dall'inflazione. I nostri interessi saranno sempre più o meno equiparati all'inflazione. Poi l'obiettivo 5% per sua natura premia la fedeltà nel tempo, perché chi dovesse mantenere i denari, fermo restando che li può sempre prelevare, fino al 2014 poi prenderà il 5%. Poi premiamo il risparmiatore con altri prodotti, è stato già citato il deposito per 6 mesi che è possibile attivare con il 4% di rendimento e in più mi sembra che sia il caso di sottolineare un prodotto un po' particolare che abbiamo chiamato pianoforte. Abbiamo voluto, ne parlavamo l'altra volta, riempire quel porcellino che in premessa è stato detto che stava per essere in qualche modo sottratto. Noi siamo fermamente convinti che l'Italia ce la fa, siamo fermamente convinti che l'Italia si riprende, siamo fermamente convinti che il risparmio deve essere... Grazie.